49 articoli spalmati su 27 pagine per uno strumento di lavoro aggiornato alle esigenze attuali. L'ultima versione era di 15 anni fa. È entrato in vigore il 22 dicembre scorso il nuovo regolamento di polizia urbana che permetterà agli agenti di polizia locale di intervenire in quegli ambiti dove fino ad oggi era complesso poter garantire ordine e armonia. E sono diverse le novità applicate. Tra le più importanti rientra il daspo urbano con il quale si potrà impedire a soggetti noti per comportamenti lesivi di frequentare certi luoghi e zone sensibili come in centro storico, nelle vicinanze di scuole, parchi e giardini comunali. Nuove norme anche per gli artisti di strada che non potranno intralciare la circolazione pedonale e stradale. Inoltre è vietato l'utilizzo o l'esposizione di animali e non deve essere richiesto il pagamento di un biglietto o altro corrispettivo. Altra novità riguarda la conduzione degli animali in aree pubbliche o aperte al pubblico. I conduttori devono mantenere i cani sempre al guinzaglio lungo un metro e mezzo e avere a disposizione una museruola da far indossare in caso di necessità. Ma non solo, infatti, oltre al sacchetto per accogliere le deiezioni, è obbligatorio avere con sé una bottiglietta d'acqua per pulire le urine. In questo caso i trasgressori rischiano una sanzione che va dai 25 ai 500 euro. Ci saranno norme più stringenti per quanto riguarda gli aspetti dell'utilizzo del volume della musica, che poi farà pandan con un'ordinanza che dovrà essere fatta, un'ordinanza sindacale sui termini di chiusura della musica da parte degli esercizi pubblici. C'è poi stato comunque un grandissimo lavoro in generale su tutto quello che sono le attività che possono essere tra i privati cittadini. Le questioni del verde privato sono comunque un elemento che fanno, soprattutto d'estate, quando il verde privato non curato entra nel verde di altri privati, è sempre un elemento di grande discussione, di grande problematiche. Così come l'impianto di nuovi condizionatori o pompe di calore, nuove strumentazioni che sono sicuramente più silenziose, ma se non correttamente posizionate con le giuste distanze e con le giuste modalità possono essere di grande disturbo ai vicini di casa. È stata prevista poi una cornice normativa per i proprietari degli immobili dismessi e dei cantieri bloccati, così da assicurarne la manutenzione e il decoro con misure che impediscano l'accesso agli abusivi. Il regolamento, consultabile sul sito del Comune, disciplina anche la sicurezza e la manutenzione degli edifici, l'utilizzo di strumenti musicali, di droni, di articoli pirotecnici, lo sgombero della neve, l'accensione di fuochi e barbecue e tante altre questioni che riguardano la quiete pubblica e il decoro urbano. Molti si è intervenuti, ad esempio, per quanto riguarda la materia dell'ambiente, concimi e prodotti fitosanitari che non c'erano per niente nel vecchio regolamento, nonché anche, per esempio, abbiamo normato i mestieri girovaghi, proprio perché si è partiti dalle situazioni che troviamo e viviamo quotidianamente, delle quali abbiamo segnalazioni dove avevamo magari anche poca possibilità di intervento. Per cui i controlli ci saranno sempre, sono quelli ordinari della Polizia Locale. Qualora poi si verificano situazioni specifiche dove norme speciali particolari non ci sono, ovviamente faremo riferimento al nostro regolamento di Polizia Urbana, che abbiamo cercato di rendere il più efficace possibile, prevedendo, oltre a delle sanzioni pecuniarie, anche delle sanzioni accessorie, proprio per arrivare ad un risultato, perché la sanzione accessoria consente di poter ottemperare al fine poi di ripristinare la situazione ordinaria.